Bentornati, siamo qui di nuovo con il nostro consulente finanziario Alessandro Romagnolo. Ben ritrovati a tutti. Vorrei riepilogare quanto trattato in questi nostri ultimi incontri per collegare tutti gli argomenti e ci sarà anche molto utile per poter proseguire con ordine. Abbiamo parlato del risparmiatore fai da te e dei suoi comportamenti inadeguati dettati dalla paura, dalla vulnerabilità legata al periodo storico, e dalla mancanza di obiettivi. Due di questi in particolare sono disinvestire quando al contrario bisognerebbe rimanere investiti o addirittura non entrare nei mercati in questi momenti non cogliendone le opportunità. In poche parole una mancanza di programmazione e pianificazione. Abbiamo visto poi il risparmiatore asintomatico, colui che agisce con delle autorassicurazioni mentali per sentirsi sereno, non adottando comportamenti virtuosi non solo per lui, ma anche per la protezione della famiglia. Di solito rimanda perché non si rivolge allo specialista. Poi nell'ultimo incontro abbiamo accennato al problema del debito pubblico del nostro Paese e inconsapevolmente della perdita del potere d'acquisto della liquidità lasciata sui conti coerenti ai depositi. Ci siamo lasciati con un messaggio. Valutate un attento passaggio generazionale. Ecco, ci spieghi anche con dei dati questa situazione. Per l'Italia la situazione era già fragile prima della crisi. Il rapporto debito pubblico prodotto in termine lordo è al 134,8% ed una spesa per interessi sul debito superiore ai 60 miliardi di euro, nonostante la drastica riduzione dei tassi di interesse. Poi è arrivato il Covid. Si stima che per effetto del Covid la crescita del debito arriverà al 156% del PIL. Questo si è reso necessario per non far cadere le generazioni di oggi in una fase depressiva, però spalmando in definitiva sulle generazioni future. Da qui rispondo alla sua domanda della volta scorsa. Passata questa fase emergenziale, lo Stato dovrà per forza di cose rientrare in careggiata, a meno di non ipotizzare una ristrutturazione dei titoli di Stato. Ho sentito bene, lei ha detto ristrutturazione dei titoli di Stato? Sì, lo Stato avrebbe anche questa possibilità, anzi più di una. Potrebbe optare per l'allungamento delle scadenze sul debito, ridurre le cedole in circolazione, oppure effettuare un air cut o taglio sul rimborso del capitale. Scusi se mi ripeto, ma allora a chi toccherà pagare il conto? Sì, qualcuno prima o poi dovrà saldare il conto. Ma allora, ci sarà una patrimoniale? Patrimoniale o meno, Recovery Fund o MES, uno Stato ha diverse opzioni a sua disposizione per cercare di ridurre il proprio debito. Una l'abbiamo accennata in merito ai titoli di Stato in circolazione. Altre sono il prestito forzoso, vendere i propri patrimoni immobiliari, aumentare le tasse. E qui, già dal 2015 che si discute, un aumento progressivo delle rendite catastali o la famosa riforma del catasto. Inoltre, un adeguamento delle imposte di successione alla media europea. O ancora, diminuire i welfare e le pensioni e questo di fatto sta già avvenendo. Mi scusi, e opzioni come razionalizzare la spesa pubblica o combattere l'evasione fiscale? Mi viene da dire che per i miracoli c'è sempre tempo. Ma per riprendere il discorso, indipendentemente dalla scelta che faranno i governi, anche futuri, qualcosa dovrà essere attuato. E a mio avviso è importantissimo, già da ora, per i risparmiatori e per tutti, ragionare su come prepararsi appunto a saldare il conto. E vi ricordate la frase della volta precedente? Non sarà tutto come prima. E allora cosa si deve fare? Riprendendo tutto il discorso, la risposta è molto facile. attraverso un'attenta pianificazione finanziaria del patrimonio complessivo per non trovarci ancora una volta impreparati. Qui cito un dato. In Italia solo il 9% della popolazione ridige un testamento. Grazie mille, alla prossima puntata. Grazie a tutti e grazie dell'attenzione soprattutto. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.